Benvenuto Teatro è il tema di una rassegna concorso dedicata al teatro amatoriale organizzata dall'Assessorato della Cultura della città di Albino in collaborazione con l'Associazione Culturale Lo Scoiatro. La rassegna è dedicata a Battista e Benvenuto Cuminetti e si rivolge a quel teatro fatto dagli amatori, paese per paese, sera dopo sera, oltre al lavoro e dagli impegni familiari, a quel teatro che costantemente tiene accesa l'attenzione per l'arte della scena e contribuisce alla crescita culturale e sociale della comunità. Obiettivo di questa rassegna, sottolinea l'Assessore alla Cultura Andrea Chiesa, è quello di valorizzare la ricchezza culturale delle compagnie teatrali amatoriali e il loro radicamento sul territorio che rappresentano, soprattutto per la sua valenza sociale, un momento formativo, culturale e aggregativo. Ad Albino la massima espansione teatrale si è avuta nella prima metà del Novecento, che ha visto prima la gloriosa filodrammatica albinese del maestro Giovanni Bolognini e quindi, nel periodo fra le due guerre, la compagnia teatrale Don Cristoforo Rossi. La prima edizione della rassegna concorso si svolgerà nell'autunno 2011, con iscrizioni che si ricevono entro il termine ultimo di sabato 1 ottobre e che sono aperte a singoli attori e compagnie amatoriali della provincia di Bergamo, offrendo loro la possibilità di esibirsi sul palcoscenico dell'auditorio comunale di Albino. Per informazioni, regolamento e schede di iscrizioni si possono consultare i siti www.microfonoaperto.it e www.albino.it. Da Albino, linea allo studio.